Pariggio con Bertha, quello conseguito domenica scorsa alla vittoria a calcetto sul campo del Reve P5 Palermo. Dopo la discussa sconfitta contro un rionero e il pari con parecchie recriminazioni con Martina, domenica è arrivato un pari quasi inverosimile per come si è configurato durante l'arco della partita. Una gara per larghi tratti dominate, col punteggio che era stato fissato ad un certo punto solo 4-2 per le ragazze di Nobile. In pochi minuti però nel finale tutto svanito in quanto le palermitane sono riuscite a segnare due reti ed ad agguantare un incredibile 4-4. Scoramente delusione naturalmente nel team del presente Leta, visto che sono volati via tre punti, che avrebbero proiettato la squadra di Parina nella zona di play-off di Coppa Italia. Adesso il campionato si ferma un turno in società e fra i guadi trecchici avranno sicuramente modo e tempo di poter rivisitare quanto accaduto domenica a Palermo, cercando di capire soprattutto le mancanze che hanno permesso di far recuperare all'avversario un risultato e una gara che sembravano ormai in cassaforte. Una sosta che permetterà anche a qualche atleta di recuperare la forma migliore.